www.foodglory.com, trovate il link nella descrizione, fateci un salto e buona visione Bella a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro Joker, siamo tornati signori di nuovo con un pack opening del vostro School of Joker Siamo qua oggi con questa squadra fenomenale con Rodriguez, Matuidi, Eriksen e tutti gli altri L'altra volta l'abbiamo fatto su Food Glory, l'abbiamo tra di tutti e anche Cristiano Ronaldo Hero, signori Ma siamo qua oggi per quale motivo, signori? Perché ci sono dei pacchetti da 50.000 e ce ne sono ben 20 Questi sono matti come l'accuso proprio, ma noi ce ne andiamo ad aprire, signori Non so quanti riusciremo ad aprirceli, al momento ci sono problemi, non mi rompere i coglioni Aprimi il pacchetto da 50.000 e andiamo a trovare Rodriguez e tutti gli altri, signori Partiamo subito con C.O.C. con Schneider, che non ci facciamo un cazzo con Schneider Speriamo, signori, di trovare qualche giocatore importantissimo in questo pack opening Almeno un Rodriguez, un Matuidi o un Eriksen Uno dei best of three, signori, abbiamo Jordi Alba, che è molto buono, Jordi Alba Oppure, speriamo di trovare anche qualche doppione di quelli mega importantissimi Perché qua ragazzi siamo su Xbox momentaneamente Ma possiamo trovare anche una leggenda Una leggenda? Se in me dovesse usci mai una leggenda Sarebbe veramente qualcosa di ottimo Intanto possiamo scartare il Todos Perché punto solamente ai giocatori importantissimi Non ci abbassano 12.000 FIFA Points mai nella vita Ma vediamo subito un difensore centrale Abbiamo Otamendi Benazia e Otamendi Allora questi ci possiamo mettere a vendere Senza ombra di dubbio Vai così Mandanda e Oblak non ci interessa Vitolo, questi altri non ci interessano Signori, sono agitatissimo Perché possiamo trovare veramente il mondo Con i pacchetti da 50.000 Cioè pacchetti da 50.000 Scrivano un palo stronzo Centrocampista Bradley Poi se mi fai trovare Bradley proprio Io ti metto le mani in faccia Abbiamo trovato il Faraone Lo mandiamo a vendere il Faraone Non è possibile che non mi fai trovare qualcosa Te lo dico eh Cioè non è matematicamente impossibile Che con 20 pacchetti da 50.000 Tu non mi faccia trovare Nada Cdc Kedira Ok stiamo andando abbastanza malissimo Ovvero abbastanza malissimo Non mi fai chiamare il ristorante Se non mi fai incazzare Non mi fai schippare Se non poi mi tocca trovare tutti i giocatori Non mi fai schippare Perché se io schippo O vedi che mo dai mi informa O vedi che mo dai mi informa Pereira E mi ti fa sempre incazzare Che devo schippare Oh signori Mi devono fare sempre incazzare 12.000 crediti di Pereira Non mandiamo l'inizio di asferimenti Propriamente Avete visto se schippo Avete visto il giocherigno Se schippo signori Quindi non mi fai incazzare Ma è normale Un informa me l'hai dato Che non vale un cazzo Però se schippo Ho visto che c'è ragione Cc Verratti Un Rodriguez Un Matuidio Un Ericsson Ci uccide Tu madre Mi dai Silvo88 Silvo88 È buono Perché qualcosina Dovrebbe costicchiare Lo mandiamo a vendere così A random Senza problemi Wiongel Bella Se c'è tutta quante cose Assai buone Mi dà una leggenda Orodriguez Dello Schneider Mortacci Tua Non mi fate cambiare Ristorante Non mi fate cambiare Che cosa è me agito Antonelli Dopione Madonna mia Tutta sta acquista Mi ho fatto Dai su Rimango ancora 8 Ragazzi Servirebbero ancora 8.000 viva points Cioè qua uno Per spacchettare Sti pacchetti Deve spenne E basta Schneider Wiongel Sono rimasti 5 pacchetti Ti vedi che ha già fatto qualcosa di importante Ti spacco la capa Ti spacco il culo No Dede Che è sto ristorante oggi? Che cos'è oggi? Is impossible Ma da faca proprio 4 pacchetti 50.000 crediti 300 miliardi di euro A.T. Müller Almeno Müller Mi hai dato Grazie Grazie Da tante cose bravo Ne hai Una me la leggenda Dammi il gattoso Pelè Dammi Magari Pelè Magari Pelè Dammi la leggenda Una leggenda Attaccante Guarda che mi ha dato Bacca Sto babbino De bacca Mi ha dato Ultimo pacchetto Ma passerò sulla playstation Che sicuramente Mi sarà ricambiare il favore Oggi l'xbox Non mi è piaciuto Pencazzo Lamm Non è che se mi fai trovare lamm Sono contento Andiamo sulla play che è meglio Ok signori Siamo sulla playstation Il primo pacchetto Non l'ho registrato Porca puttana L'ho stoppato Non ho messo un play Comunque non ho trattato nulla Non vi preoccupate Siamo sulla playstation Secondo pacchetto Gonalons Quaresma E non ci sta niente Quindi un bel pacchettino Di merda Sto spendendo Un fottio di denaro E non trovare nulla Abbiamo Siriku Mamma mia Continuiamo bene Ah mi ha dato company Mi ha dato company Vediamo un po' company Me l'ho detto subito A vendere il nostro company Mi ha dato Jordi Alba E Bardi Ne rimangono tre Cioè noi possiamo Vedicene tre ancora Vediamo un attimo Difessore centrale Godin 86 Almeno Godin Almeno lui Canto non costa nulla Però ce lo mettiamo a vendere Poi Draxler Che non costa niente E quest'altro Che non costa niente Addirittura anche Felipe Luis Ce lo mettiamo a vendere Giusto perché è Felipe Luis Ragazzi Perché se no veramente Non ci guadagniamo neanche Un dublone Porco due Andiamo ancora Con questi pacchetti Speriamo sempre Qualcosina di buono Niente cdc Topal Mamma mia ragazzi Io diciamo Con l'ultimo pacchetto A disposizione Con i FIFA Points Ragazzi Mamma mia Veramente Un qualcosa Di inguardabile Inguardabile Signore Oh almeno Pogba Almeno Pogba Ce l'ha dato Grazie eh Gentilissimi Almeno Pogba Ce l'hai dato 140.000 credit Finalmente Almeno Pogba Porca miseria Ma questo ce l'abbiamo Con i credit Si è sprecato Comunque Solo Pogba Ma meno male Che ci ha dato Stiamo Un bancarotta Oh arrivano adesso I giocatori buoni Stanno arrivando adesso Oh Vedi Stanno arrivando adesso I giocatori buoni Modric Tanto ce l'abbiamo Todi Lo possiamo addirittura Vediamo Clark Kent Qua ci abbiamo Vediamo un attimo Quanto costa Clark 13.000 Lo mettiamo Lista Da sferimenti Svainstack Guarda adesso Stanno arrivando I pacchetti buoni Signori Finalmente Finalmente Qualcosa di decisivo Alleluia FIFA Alleluia Ce l'abbiamo Un altro con i credit Guarda Proprio Chi se ne frega Giusto per vedere Che cosa Mi stai dando Adesso Stanno uscendo I giocatori buoni Adesso Stanno uscendo I giocatori buoni Signori Vaffanculo Vedi Di Bala Di Bala Buono 40.000 Credi Lo mettiamo Subito a vendere In 4 pacchetti Mi hanno dato Uniforma Pogba E mi hanno dato Modric E Svainstack E Di Bala Qualcosa di interessante Gli ultimi pacchetti Oh Neuer Tutti adesso Mi li stanno dando Tutti adesso Grande Grande Finalmente FIFA Finalmente Tutti adesso Mi li stai dando Ottimo Così si fa Porca puttana E svegliamose un attimo Con sti mega pacchetti Continuiamo Con i crediti Perché al momento Tua mamma Non ci sono Dammi qua Dammi qua Con i crediti Ragazzi Che può essere Che sta andando Bene per questo Attaccateci Da lui Chris man Dai Come on Pirlo Buono Pensa quando è Legend Se non mi fa trovare Leggenda Mi mette le mani addosso William Qualcosina costa William Lo mandiamo a vendere Dai Dai Ultimo pacchetto Per noi Poi vediamo Se prendici gli ultimi Fiamapons Per andarci ad aprire Dai Dai Attaccante Daccelo Van Persi Ok ragazzi Ho venduto qualcosina Giusto per aprire L'ultimo pacchetto Con i crediti E sperare qui Nella botta di fortuna Purtroppo Ne rimane uno Così a random Perché non mi fa prendere Più FIFA points Non so per quale motivo Ne avrò presi Troppi Portiere Ci da Mandanda Anche se Mi potava dar Qualcosina Un po' De meglio Però va bene Va bene Dai comunque Alla fine ragazzi Si è ripreso Questo FIFA Cioè l'ultimo pacchetto Sti casi Non ce l'apriamo Ma alla fine Si è ripreso Signori Abbiamo trovato veramente Qualcosa di ottimo Tutto alla fine Signori Meno male Finalmente Qualcosina Ci ha dato Cioè ho speso Un boato Per poca roba Però Meno male Che ce l'ha data Signori Purtroppo Né Rodriguez Se ne è matto I tieni Ericsson Pensate che verda Sti pacchetti Signori Io spero che questo video Comunque vi è piaciuto Mi raccomando Spolliciate tantissimo Mi raccomando Perché ho speso Un boato Fatelo per me Signori Un bel like Se volete un altro Bel pack opening Del vostro scuro Joker Che oggi è stato Più uno sculino Joker Oggi è stato Scurino proprio Quindi signori Passate tutti i social Qua sotto In descrizione Paggia Facebook E Instagram Sempre qua sotto Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti Noi ci vediamo domani Con il passeremo di video Questa sera 19 Non mancate Bella signori